e proseguendo la diciottesima edizione del carnevale san gavinese stiamo per presentarvi il prossimo carro è il carro numero 11 il gruppo è oktoberfest questo come ormai sapete è il carro musicale che presenta il carro vero e proprio gruppo oktoberfest facciamoci sentire no 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 Sous-titrage ST' 501 Gruppo Oktoberfest! Gruppo Oktoberfest! Gruppo Oktoberfest! Ragazzi dell'Octoberfest, non è possibile corrompere o promuoversi per la giuria, mi dispiace! Gruppo Oktoberfest! Allora diamo qualche nota sul gruppo degli Oktoberfest! È il carro numero 11, il tema che ha scelto è lo zodiaco, è anche scritto al di sopra, all'apice del carro. 12 anni che parteciperò al carnevale, anno di fondazione 1989, 450 è il numero di persone che compone il gruppo Oktoberfest e 20 le persone che hanno lavorato alla creazione del carro. Tutto il carro è in movimento, è il carro numero 11, lo ricordo la giuria, ed è composto da tutti i segni zodiacali che sono 12 più il sole. Il gruppo Oktoberfest arriva da Sangadino, a Monreale! Attraverso Sardegna 1, attraverso il satellite, volevo che arrivassero queste splendide immagini del diciottesimo carnevale sangavinese. Buon divertimento a tutti! È una pioggia di coriandoli questa, per questa diciottesima edizione del carnevale sangavinese. Grazie! 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 Grazie!